Ed ecco qui il pannello estratto dal freezer, sta nel freezer, sta, ieri, si, capito? Questo è un bellissimo contenitore da gelato, che è perfetto, è un monoporzionale, il singolo pannello, voilà, ci puoi anche vedere lo stato, capire quanto cresce, capito? Vabbè, adesso va in frigo fino a domani sera, ciao!